Ciao, sono Vincenzo e sono uno studente che l'anno prossimo andrà per un anno a studiare in Michigan con Intercultura. Non è la prima volta che vado negli Stati Uniti e mi aspetto di vivere un'esperienza molto bella e divertente. Io sono Paolo, sono il papà di Vincenzo, vivo con lui questo momento di grande entusiasmo e siamo convinti che sarà un'avventura entusiasmante. Mi aspetto di crescere molto da Intercultura, mi aspetto di tornare una persona diversa, una persona più matura e una persona più cresciuta insomma rispetto a quello che sono adesso. Sicuramente torneranno tutti i ragazzi diversi da quando sono partiti ma sicuramente saranno cresciuti e saranno sicuramente diventati cittadini del mondo, questa è la nostra certezza. Grazie a tutti.